Continuano i lavori sulla tangenziale di Messina per la ricostruzione del viadotto ritiro. Dopo l'apertura del bypass Bocetta, avvenuta lo scorso 25 luglio, il prossimo 3 agosto inizierà la demolizione dell'ultima parte di impalcato del viadotto ritiro per mano degli operai della Totocostruzioni. Ciò comporterà la chiusura temporanea dello svincolo di giostra per chi proviene da Palermo, almeno per i prossimi sei mesi. La prima uscita disponibile per la città dello stretto sarà quella di Bocetta, una operazione che comporterà il 3 agosto la chiusura dell'autostrada dalle 6 alle 8 del mattino tra gli svincoli di Bocetta e Rometta in entrambi i sensi di marcia, chiuso in entrata anche lo svincolo di Villa Franca Tirrena. È stato scelto quest'orario per cercare di non gravare troppo sul traffico cittadino. Chi dovesse recarsi a Messina quella mattina dovrà infatti confluire sulla statale. Una volta concluso questo step del vecchio viadotto non ci sarà più nulla e si potrà procedere con l'ultima fase di questo eterno cantiere, la costruzione della parte mancante del nuovo viadotto, lato monte. Altri sei mesi di lavori che però si fermeranno per una settimana a cavallo di Ferragosto. L'uscita di giostra per chi proviene da Palermo rimarrà un ricordo e da qui all'inizio del 2024, salvo imprevisti, il primo svincolo in entrata da nord a sud sarà Bocetta, mentre per chi viaggia verso Palermo l'ingresso in autostrada da giostra sarà regolarmente utilizzabile. Così ha disposto il Consorzio Autostrade Siciliane. Secondo l'ultimo cronoprogramma la ricostruzione del viadotto ritiro dovrebbe essere ultimata entro il 2023. Una speranza per i messinesi ma in generale per tutti gli automobilisti che percorrono la tratta, che attendono il completamento dell'opera ormai da diversi anni.